Temperature così alte a Mosca per le feste di fine anno non si avevano da oltre un secolo. Nella capitale russa si sono registrati 3,5 gradi centigradi, un deciso cambiamento dai meno 5 gradi dei giorni scorsi che ha portato al superamento del record precedente, quello di 3,1 del 1910. Le temperature potrebbero ancora salire.